Grazie! 5.86 partita anche la finale che è risolvata queste cinque attore che vediamo sul percorso che grazie a tutti ricordiamo il capone Paglieri Caranoce il servile Bollonato negli ultimi piani per uscire dalla curva quanto si è lavorata contrafila sul traguardo il loro tempo indicativo è di 25.71 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ben licensed 25.47 bene la partenza per questo è il campo è il campo spingendo all'ingresso della curva è il campo agli ultimi uniti prende il preguardo per arrivare prontamente sul preguardo che ci consegna un 24,91 che si chiuditi 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 sembra una ventura di queste apriete ed infatti il loro tempo di riferimento è di 24 e 11 molto bene l'interpolista potete finire i concorrenti della finale numero 20 e vediamo che la presenza è stata ancora anche qui devo dire che a colpo d'occhio la dottura sembra eccellente 24 e 39 24 e 39 la dottura è stata provata anche per la prima volta il numero 21 non lo corre ma il tempo buono su un percorso dividiamo l'amesso della curva e in questa istante è pronta per lanciare la volata finale su un percorso ed il tempo di riferimento per noi di 24 e 0 un buon ritmo il lavoro tempo è di 23 e 49 23 e 39